Eccomi arrivato all'Amanzio di Populonia, finalmente. Il mio amico Antioco l'ha rinnovata moltissimo l'ultima volta che sono venuto. Dovrebbe essere qui nei paraggi. Vabbè, lo cercherò io. Uff, sono distrutto. Non si finisce mai di lavorare qui. Ehi, ma c'è un ospite. Per Giove Pluvio. È il mio amico Rufus. Era da anni che non lo vedevo. Rufus, sono qua! Ave, mio caro Antioco. Allora, tutto bene qui in Etruria. Ho visto che avete fatto dei bei lavori qui alla tua Manzio. Eh sì, caro Rufus, le cose vanno molto bene. Il traffico sull'Aurelia cresce sempre di più. Così, come vedi, ho fatto dei lavoretti. Ad esempio, questi muri l'ultima volta che sono venuto non c'erano? No, infatti, li ho costruiti con i laterizi della mia fornace e poi li ho intonacati. Servono sia per avere dei percorsi di camminamento, sia per far defluire meglio l'acqua dal basolato nella canaletta. Capisco. Ma perché non mi fai vedere il resto della Manzio? Certo. Così ti mostro anche la tua stanza. Ti fermi qui stanotte, vero? So. ... Grazie a tutti.